In un paese molto lontano, un bellissimo principe di nome Camino è a caccia in un bosco, quando perde un serpente. Aiuto, sui te! Marco ha annunciato il punto a Paiol Terabio. Come al bosco? E con vita di generale? Paiol Terabio si sveglia e trova tanto l'unico di serpente lontano. Io sono un cacciatore di ucene, al servizio della regina della notte, e ti ho salvato da questo mostro. Aiuto, ti con noi abbiamo ucciso il serpente! Principe Paiol Terabio, questa è l'età trotto dalla principessa Paiol Terabio, figlia della regina della notte. Tu devi liberarla. E' l'iscrizione in fast. Camino guarda l'entratto e si lavora di famiglia. Questa canzone è bellissima, quanto ancora oggi nessuno ha visto mai. Accetta l'incarico. Camino, prendi questo flauto magico. Chi ha il potere di trasformare un buono? Chi è cattivo? In allegro? Chi è triste? E' il papagheno di camponelli marci. Da me e il papagheno partono per liberare Pamina. Papagheno arriva per primo e trova Pamina, prigioniera di monostato. Pamina e papagheno fuggono inseguiti dal serpio di monostato. I campanelli magici di papagheno fermano gli inseguiti. Madre, che tu hai ai miei denti? Saga, mi riportavi da Sanosco. La benedetta è il bollere del mio sangue. Figlia mia, ti riporterò da Sarasca, un'operazione civica. Per la tua mano valurà, non sarai credente di essere la mia figlia. Per la tua mano valurà, non sarai credente di essere la mia figlia. Per la tua mano valurà, non sarai credente di essere la mia figlia. Per amore di Pamina, non mi girerò indietro. Supererò le prove al tuo fianco. Pamina finalmente supera le prove. Purtroppo papagheno non è così fortunato. Ma... Papagheno, papagheno mio, ugualemente, quanti ho aspettato. Papagheno non ha superato le prove, ma è stato ugualemente premiato per un incontro della sua papaghena. Papagheno non ha superato le prove. Grazie. 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 Grazie.